compie 90 anni monica vitti e il museo del cinema di torino le dedica un omaggio fotografico nell'ambito la mostra photo call con scatti di angelo frontoni ed è una cosa molto importante e molto giusta mi è capitato di parlare con ragazzi di vent'anni che mi dicevano monica vitti non so chi sia bene monica vitti è stata l'attrice italiana più straordinaria nel mettere insieme comico e drammatico nell'illuminare il grande cinema d'autore di michelangelo antonioni per il quale ha interpretato quattro film cinema enigmatico complesso rarefatto e la grande commedia l'italiana da monicelli a scola da dino risi a luciano salce sempre con una sensualità una brillantezza una capacità di prendersi in giro lei che era bellissima con una voce straordinariamente roca bene tutto questo in un'unica attrice monica vitti